Il rinnovo del contratto nazionale a enti locali firmato recentemente sembra essere la causa dei ritardi nel pagamento degli arretrati contrattuali e dipendenti dell'IPAB Casson di Chioggia. Il consigliere regionale montanariello del Partito Democratico ha affermato di aver avuto modo di interloquire con il presidente della Casa di Riposo proprio questa mattina, ottenendo l'assicurazione e la garanzia che la situazione sarà risolta al più presto e tutto il dovuto emerso in conteggio sarà riconosciuto a breve. Nonostante ciò il consigliere tenendo nella giusta considerazione gli allarmi diffusi negli ultimi tempi ha affermato di rimanere al fianco delle organizzazioni sindacali per verificare che il tutto proceda. SD Auto informa della novità per il 2023 la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Per quanto riguarda i suoi dati, la nostra 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 Grazie a tutti